Ieri abbiamo votato a favore dell'arresto perché tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, non ci sono e non ci devono essere particolari privilegi per nessuno. La maggioranza allo sbando, ieri si è divisa per un regolamento di conti tra il PDL e la Lega, interno la Lega, oggi si divide sulle missioni internazionali. L'Italia merita di meglio ed è ora che se ne vadano a casa.